Bentrovati, questa settimana parliamo rapidamente della partita persa dalla Rimini a Prato per poi arrivare invece ai due nuovi acquisti biancorossi annunciati lunedì sera durante Calcio Punto Basket. Il centrocampista Gomis che sarà tesserato nei prossimi giorni, ancora qualche pratica burocratica da cercare di risolvere il prima possibile. E invece l'arrivo di Scott Arlotti è già ufficiale, è reso ufficiale questa mattina dalla nota della società biancorossa, soprattutto sull'arrivo di Scott Arlotti ci concentreremo. Ma prima facciamo un passo indietro e parliamo di Prato. A Prato il Rimini non ha giocato una bella partita, una partita condizionata fortemente dalle condizioni del campo piuttosto difficili, da una situazione di vento fortissimo e pungente che sicuramente non ha aiutato. Certo, questo valeva sia per i biancorossi che per i biancazzurri, però i toscani sono stati più abili nell'interpretare quel tipo di condizioni climatiche e forse al campo erano più abituati rispetto a quanto non fossero invece i ragazzi di Mastro Nicola. Fatto sta insomma che i biancorossi si sono affinati un po' troppo sistematicamente al lancio lungo e con un vento così era davvero difficile controllare il pallone per chi poi doveva riceverlo. Quindi non è stata sicuramente la tattica migliore per affrontare quel tipo di condizione anche climatica. Rispetto alla gara contro il Fiorenzuola di pochi giorni prima, il Rimini ha anche presidiato molto meno bene la propria area di rigore. Nette testimonianze il primo gol che è arrivato con due colpi di testa da parte degli avversari, il primo finito sul palo, l'altro ovviamente con il tapin vincente e poi anche quella parata di Escotti distinto in chiusura di prima frazione che ha evitato il 3-1 toscano. Insomma anche in quel caso c'è stata la possibilità per gli avanti di casa di colpire di testa da pochi passi rispetto alla porta di Escotti. Quindi un passo indietro per quanto riguarda questo dettaglio tecnico, tattico, non comunque irrilevante. E per il resto comunque si è visto un Rimini meno bello rispetto a quello di qualche giorno prima contro il Fiorenzuola. Si sapeva, lo aveva detto già la vigilia Mastro Nicola, che non sarebbe stata una partita semplice. Così è stato poi in campo ed è arrivata questa sconfitta che ha interrotto il momento positivo di Biancorossi, che erano riduci da tre vittorie di fila. Archiviamo però la sconfitta perché il lunedì è stato sicuramente un lunedì più dolce, appunto con gli arrivi di Gomis, come detto, ancora ad ufficializzare, e di Scott Arlotti. Comunque per entrambi diciamo che la firma è arrivata lunedì. Ci concentriamo su Scott Arlotti. Non so se per Scott sia la scelta migliore per quanto riguarda la sua carriera calcistica. Forse no o forse sì. Ce lo dirà il posizionamento finale del Rimini in campionato, perché se Rimini dovesse vincere questo campionato, insomma, quindi tornare nella propria città e contribuire a riportare Rimini tra i professionisti, sarebbe sicuramente una nota di merito di rilievo. In questo momento, chiaramente, arrivare dalla Serie C in Serie D costituisce un passo indietro per la carriera. Però l'entusiasmo di Scott Arlotti, che sicuramente avrà nel rivestire la maglia bianco-rossa, compenseranno magari un po' la delusione per non essere riuscito poi a trovare uno spazio importante nel Monopoli, società dalla quale proviene. Ecco, dove potrà giocare Scott Arlotti? Scott Arlotti è un po' un jolly offensivo, può agire da seconda punta, quindi potrebbe completare l'attacco insieme a Vutai, ma potrebbe anche giocare da trequartista, ruolo che tra l'altro ha già ricoperto proprio in maglia a scacchi, e lo ha ricoperto bene, proprio con quel compito di rottura che solitamente Mastro Nicola richiede a chi agisce in quella posizione, appunto da quando c'è stato il cambio di modulo. Solitamente gioca Sambo, che è un altro under, così come Arlotti è un under classe 99, e quindi questo è un altro vantaggio, perché è un under veterano, però l'arrivo di Arlotti potrebbe comportare quindi uno schieramento con Sambo alle spalle di Arlotti e Vutai, chiaramente ipotizzo una possibile scelta di Mastro Nicola, oppure potrebbe schierare il mister Mastro Nicola Arlotti da trequartista, sempre con i compiti di rottura, che tanto gli riescono bene perché ha quella grinta e quella corsa che gli permettono di svolgere al meglio questo ruolo, e davanti poi può affidarsi o alla linea d'esperienza con Vutai, Ambrosini, Casolla, o altri giocatori, visto che il reparto offensivo è ben fornito, oppure potrebbe giocarsi pecci, quindi altro under in avanti, così si giocherebbe due under nel reparto offensivo tra trequarti e attacco. E questa sarebbe una cosa anche piuttosto interessante, perché poi andrebbe a liberare dei posti in altri settori, dove Rimini magari avrebbe anche bisogno di maggiore esperienza. La scelta di Mastro Nicola adesso sicuramente diventa più ampia, ci aspettiamo a questo punto, mi aspetto perlomeno io, una riduzione almeno nell'organico dell'attacco, secondo me un attaccante potrebbe partire, uno se non due, perché in questo momento il reparto è davvero molto molto ricco, anche troppo per le esigenze di questo campionato. Campionato che cosa ci dice, al di là della sconfitta del Rimini? Ci dice che è un campionato che può essere vinto dai biancorossi, può essere vinto da chiunque in questo momento navighi fino a metà classifica. Allora, l'andiamo a leggere, perché è una situazione abbastanza particolare, tenuto conto che ci sono anche dei recuperi che adesso poi andremo a sottolineare. Allora, l'Aianese ha 23 punti ed è sempre in vetta la classifica, il Fiorenzona ne ha 20, così come il Lentigione, Lentigione che però ha già giocato le 11 partite, quindi è una partita in più rispetto alle altre. Il Prato ha 19 punti, il Pro Livorno ha 19 punti come il Prato, ma come Lentigione ha già giocato tutte le 11 partite di calendario. Poi c'è il Mezzolara, che il Rimini andrà a sfidare mercoledì 20 nella sua Tana, nel recupero della settima giornata, quota 18. Il Rimini è a 17 e poi attenzione perché c'è la Correggese, che è a 16, ma ha giocato 8 partite, quindi ha giocato 2 partite in meno, per esempio dei Biancorossi e 3 di chi ha giocato già le 11 partite a sua disposizione. Quindi potrebbe risalire. Il Real Forte Querceta ha 15 punti, il Progresso ne ha 13, ma con 9 gare giocate. E attenzione anche al Forlì, che ha 12 punti, ma ha giocato 7 partite, quindi ha ancora 4 recuperi a sua disposizione. E potrebbe, chiaramente sfruttandoli, fare un notevole balzo in avanti. Ecco, perché ho letto la classifica? Perché è una classifica che ci dice che il Rimini può vincere questo campionato, perché ormai l'Alianese non è più così terribile come si pensava solo qualche settimana fa, quando le vinceva tutte. Addirittura domenica era sotto di due gol fino all'ottantottesimo e poi è riuscita a pareggiare, insomma, anche con, diciamo, grande grinta, ma anche con un pizzico di fortuna, quando si segnano due gol proprio nei minuti finali. Però, insomma, non è più quella corazzata, magari, di inizio stagione. Abbiamo visto anche il Prato, ormai l'abbiamo viste tutte. Insomma, non ci sono squadre poi così forti per cui si possa pensare che il campionato lo possano vincere per distacco. La sensazione è che sarà un campionato molto all'insegna dell'equilibrio. Allora, Rimini, che non è poi così lontano dalla vetta, nonostante questa sconfitta, grazie soprattutto alle tre vittorie precedenti, se la può giocare. Se la potrà giocare ancora meglio con un Scott Arlotti in più nel motore e anche con un Gomis che sicuramente darà una bella mano a centrocampo perché sembra l'uomo ideale per affiancare un giocatore con le caratteristiche di Ricciardi lì sulla mediana, in un centrocampo a due. È un giocatore che ci è stato descritto un po' come Barusso, quindi un giocatore sicuramente che fa dell'interdizione il suo punto di forza, un giocatore fisico, un giocatore che è alto 1,83 m, quindi insomma è anche piazzato e quindi speriamo che i suoi muscoli possano far trarre giovamento in quella zona del campo a tutta la squadra perché è un po' dall'inizio della stagione che lo ripetiamo che è il settore un po' più scoperto, quello della mediana. Domenica appuntamento al Romeo Neri con il derby con la San Maurese, una San Maurese che è in crescita dopo un avvio piuttosto complicato, quindi Biancorossi dovranno stare molto attenti. Alla prossima!